Usando l'applicazione quiz patente tradotto che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone e consultare in 102 lingue sia per quanto riguarda i quiz sia per quanto riguarda la parte della spiegazione di teoria, in questo video andiamo ad analizzare nei quiz per argomento che vi ricordo sono i primi da affrontare rispetto ai test d'esame a tempo, all'interno dei segnali di indicazione i quiz relativi al segnale di... Vediamo di trovarlo, eccolo qua, ha il segnale di piazzola di sosta. Prima di affrontare i quiz sentiamo cosa ci spiega il nostro manuale su questo segnale. Si trova su strada extraurbana e indica, nella vicinanza, la presenza di una piazzola al lato della carregione, per effettuare la fermata o la sosta. Il segnale può essere abbinato ad un pannello integrativo che ne indica la distanza, figure, 121. È sbagliato dire che è posto solo sulle autostrade, che indica un allargamento della carreggiata, la piazzola non fa parte della carreggiata, la fermata di un autobus, un'area di parcheggio per caravan, roulotte, un'area di campeggio. Oppure che la sosta è consentita solo per tre ore. Il segnale raffigurato indica che la sosta è consentita solo per tre ore. Non bisogna confondere la piazzola di sosta, che non ha dei limiti di tempo per la sosta, con la corsia di sosta d'emergenza, che consente la sosta d'emergenza al massimo per tre ore, dopodiché il veicolo può essere rimosso dal carroattrezzi. La corsia di sosta d'emergenza è pericolosa da usare, quindi la si deve usare solo in casi di estrema emergenza, mentre la piazzola di sosta, come dice la parola, consente la sosta o la fermata per il tempo che ci occorre, ed è spesso utilizzata anche dai trasporti professionali per fare le interruzioni di sosta obbligatorie ogni quattro ore e mezzo di guida. Quindi troverete spesso dei mezzi pesanti, come autotreni, autoarticolati, eccetera, che effettuano delle interruzioni di sosta in queste piazzuole. La piazzola di sosta non è pericolosa, in quanto è rientrata rispetto alla carreggiata, quindi ci si può ricoverare tranquillamente. Quindi la risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato si trova su una strada extraurbana. Infatti è a fondo blu, quindi la risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato indica un'area di campeggio. La risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per caravan. Risposta corretta, falso. Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di una piazzola per effettuare una fermata. Risposta corretta, vero. Il segnale raffigurato indica una piazzola a lato della carreggiata per effettuare la fermata. Risposta corretta, vero. Il segnale raffigurato può essere abbinato a un pannello che indica la distanza che c'è tra il segnale e la piazzola. Risposta corretta, vero. Il segnale raffigurato preavvisa un allargamento della carreggiata. Attenzione a non farsi ingannare dalla parola allargamento, perché la piazzola di sosta non fa parte della carreggiata, quindi non può essere un allargamento della carreggiata, dove la carreggiata per qualche motivo diventa più larga. La carreggiata termina dove inizia la piazzola di sosta, che è fuori dalla carreggiata. Quindi non è un allargamento della carreggiata. Risposta corretta, falso. Il segnale raffigurato è posto solo sulle autostrade. Il segnale raffigurato è a fondo blu, quindi in questo caso è posto sulle strade extraurbane. Se fosse posto sulle autostrade sarebbe a fondo verde. In ogni caso esiste la doppia versione, quella per l'autostrade a fondo verde e quella per le strade extraurbane a fondo blu. Quindi l'affermazione è falsa perché non è posto solo sulle autostrade, ma anche sulle strade extraurbane. Quindi la risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato indica la fermata di un autobus. Risposta corretta, falso. Possiamo controllare le nostre risposte nell'elenco finale. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per essere informati di ogni nuovo caricamento. Queste tre operazioni daranno modo al canale di avere più visibilità su YouTube. Naturalmente se avete dei dubbi su qualche quiz analizzato in questo video mettete un post e noi vi risponderemo prima possibile. Buono studio a tutti e arrivederci al prossimo video. Buono studio a tutti.